Paco Avon Campagna 18 è tantissimo che non faccio questo tipo di video allora cosa c'era nel Paco Avon di Campagna 18? tanto cominciò con le mie cose che ovviamente ho già spacchettato e ho anche già inaugurato ieri allora io ho preso il contorno occhio, ho preso questo della Nutra Effect che è uno dei pochi che non mi fa bruciare l'occhio perché ho la zona degli occhi molto sensibile, mi trovavo bene con il mio color rosso dai 40 anni ma non ho cambiato la formula, migliorata però mi fa bruciare l'occhio quindi ho provato anche gli altri, stesso discorso mi fa bruciare gli occhi questo invece no, quindi compro questo poi ho comprato la mia matita preferita che era finita, che è quella della Vontru il colore ha il brown black black brown, al contrario, mi sono sbagliata poi ho preso un nuovo rossetto epic ho preso il Barry Bold ed è stupendo semplicemente stupendo l'ho messo già ieri ed è veramente bellissimo poi mi sono innamorata di questi occhiali che ho comprato, ho già indossato sono veramente bellissimi, mi piacciono tantissimo volevo un paio di occhiali da battaglia da lanciare in borsa senza dovermi portare la custodia di quelli grandi di cavalli e questi mi sono piaciuti tantissimo sono proprio belli, ce li ha fatti proprio bene mi piace proprio una linea molto moderna poi all'interno c'era due campioncini di nuove rossetti epic questo qua è Spell Bond questo vi ho scurissimo e l'altro è il Louvre Louvre V che ha un bel fucsia intenso in base al blu ora farò gli swatch di questi tre prodotti se qualche cliente in questo ordine fa ordina dei rossetti nuovi se è possibile farò uno swatch anche dei loro se non sono dello stesso chiedendo permesso ovviamente e le aggiungo sul blog all'articolo che ho pubblicato la settimana scorsa aggiungo anche questi swatch così li potete vedere li potete vedere bene poi dentro il pacco c'è un piccolo bubble bath bagno schiuma giglio bianco il 3 in 1 Avoncar questa è una maschera al frutto della passione e pompalmo due prodottini per le unghie Nile Expert trattamento 7 in 1 questo non so cosa c'è scritto il mio inglese non ci conosciamo da tanto tempo abbiamo litigato tempo fa indurente antisfalda pennello angolato per chi si stesse chiedendo com'era a mio avviso è troppo ciccione per farci qualsiasi cosa e questo invece è molto bello deodorante un beauty tutti i prodotti per i piedi esfoliante e per iluvio ai sani marini poi c'è esfoliante e crema idratante alla vaniglia sempre per i piedi abbiamo un non sono anche senza occhiali stamattina non trovo l'italiano ovviamente trattamento per tallone scapolati con burro di carite e olio di pinaccioli poi dentro ci sono due mascara avontrù volume un rossetto opaco polish petal e una tinta labbra pinking about you che è questo colore rosa un rosa molto bambolina è opaco questo questo super ju è simile poi ci sono delle mattite mattita diamond black ice nera mattita labbra pink bouquet mattita labbra dip plum e mattita mark dip navi car blu questo era tutto quello che c'era nel mio ordine di campagna 18 non ho fatto un grande ordine ma ultimamente non sto facendo grandi ordini perché come vi ho già detto ho ristretto molto la ciarchia alle mie amiche più intime e nulla di più e quindi non faccio grossi grossi video metto in ordine il mio il mio ordine queste sono le fatture case rece perché la volta scorsa non era arrivato il librettino degli ordini quindi ne ho stampate alcune da internet e le ho fatte io questa è un'altra cosa che per carità non fanno pagare 15 centesimi il libretto degli ordini ma fino a dicembre era gratis se ora saperlo ne avrei fatto una scorta disumana di quelle che durano per tutto il resto della vita però sinceramente sinceramente potevano avvitarselo anche tanto per per dire poi mandano questi due campioncini di rossettino che vabbè grazie non sono colori che userò ma vabbè comunque ci sono però i librettini degli ordini va bene allora intanto io mi sistemo i miei pacchettini i miei ordini e comincio con i sacchetti i sacchettini anche questi che si pagano almeno poco ma vabbè allora li divino grazie a tutti grazie a tutti Questo è tutto per questo breve video e vi saluto e buona giornata. Ciao ragazze!